Il torno di Giuditta Lualdo, cercata ancora Casotto, Orro alza il primo tempo di Follista, a volte la salva in qualche modo, Boldini riesce a puntarla da parte opposta e golla il tapin, ancora Boldini fa mille metri per salvarla alla fine e punto per la WIBA, Valle, Bussarzizio, ma Jennifer Boldini cosa ha fatto? Avrà fatto 37 metri in due secondi netti, che è alzata alla fine in rincorsa e recupera, continua ancora a correre anche dopo il punto, poi Bracchi esulta giustamente a Boldini, mezzo punto vale tutto di genere per questo.